Ciao, sono Ilenia, vengo da Alessandria in Italia, ho 29 anni e ho deciso di fare il cammino per liberarmi da quello che la vita mi stava dando. Ho iniziato l'anno con la perdita del mio compagno, di conseguenza della mia casa e mi sono ritrovata persa senza di lui. Ho perso il mio lavoro e successivamente ho litigato con mia sorella e non ci parliamo da tempo. Tutte queste cose messe insieme mi hanno portata a decidere di venire a fare questo cammino per liberarmene. Il cammino mi ha aiutato a stare con me stessa, a superare i miei limiti e le mie paure. Ho fatto ciò che non pensavo di fare mai in vita mia, partire da sola, prendere un aereo, andare in una città straniera e adattarmi a tutto ciò che mi capitava. Consiglio a tutti quanti di fare questo cammino perché le emozioni che si vivono sono incredibili. Si trovano persone disposte ad aiutarti in un qualsiasi momento, persone che non conosci e non avresti mai incontrato in altri momenti. Perciò, per quanto sia dura, la consiglio. Con tutta la calma, nessuno vi corre dietro. Non è una gara, ci si può prendere tutto il tempo del mondo per poter arrivare a Santiago. E una volta arrivati, la liberazione è unica. Il cammino è libertà. Mi ha insegnato veramente a liberarmi di tutto e per quanto fare 20-25 km al giorno sia pesante, in quel momento non li senti, ti sembra di volare. Non mi preoccupa tornare a casa e quello che succederà nel futuro. Da qui ho imparato a vivere il presente.